Chissà cosa si stavano dicendo, chissà come avrà tentato di giustificare la prestazione horror di Civita Castellana Archimede Graziani durante questo colloquio con il direttore sportivo Carlo Musa e con il patron Gian Andrea De Cesare. In realtà lo spettacolo, a tinte fosche nonostante il sole e la giornata mite, lascia spazio a pochi dubbi e a molte, molte domande. Sette gol nelle ultime due trasferte, una squadra impaurita e contratta, incapace di tirare in porta e di reagire dopo aver preso il primo e il secondo gol, al terzo ormai la tarda e la frittata fatta. Una squadra con una difesa traballante che mostra limiti caratteriali oltre che strutturali. Gli alibi li conosciamo e vanno anche ricordati, ieri contro il Flamini e il peso delle assenze, come ha sottolineato lo stesso Graziani, ha avuto un ruolo determinante. Senza Matute, Gerbaudo e Sforzini, l'Avellino ha una formazione di media classifica in un girone che resta sempre uno dei meno competitivi della Serie D. È nata tardi, è vero, a fine agosto, quando Carlo Musa si è dovuto accontentare di quello che ha trovato, ma è anche vero che il carattere o ce l'hai o non ce l'hai. E questo gruppo sta mostrando di non averlo forte come serve a chi vuole arrivare primo. Altro discorso va fatto per Archimede Graziani o Graziani Archimede, come si chiama lui stesso, quando parla di sé in terza persona. Sabato scorso aveva detto che l'Avellino avrebbe vinto il campionato, ieri che i giocatori non lo seguono e che i responsabili sono loro che vanno in campo, aggiungendo che l'unico allenatore del mondo calcio, a dire sempre la verità, è proprio lui. Ma, vista l'età e l'esperienza, dovrebbe essere altrettanto consapevole che il primo a pagare, se le cose non dovessero raddrizzarsi, sarà proprio Graziani Archimede, al quale ci permettiamo di consigliare più umiltà, meno chiacchiere e meno show classici di chi è passato dall'anonimato alla notorietà in un attimo. Ed infine De Cesare. È abbastanza intelligente da capire che i tifosi biancoverdi, esemplari e pazienti, come sempre quelli della Sud ieri, dopo le ovazioni potrebbero riservargli i fischi, se non sarà capace di rinforzare la squadra, a dicembre, con over di nome e under di settori giovanili importanti. Di tempo ce n'è ancora e il finale è tutto da scrivere, a patto però che non ci siano più altre giornate nerissime come quella di Civita Castellana.